Mi raccomando, è voce quando vi ti vuole salutare 3, 2, 1 Ciao a tutti ragazzi, qui Alec Siamo qui su League of Legends Tornati, c'è un po' di eco perché sto su TeamSpeak Con i fan, ho deciso di portare una nuova serie Giocata con i fan Quindi anche voi potrete giocare con me Come sceglierò i prossimi che giocheranno con me Lo farò dai commenti Questi che stanno giocando con me, ragazzi che stanno giocando con me Li ho scelti dai social perché ovviamente È stato un video che ho improvvisato così di punto in bianco Perché dopo due mesi sono tornato a giocare su LOL So che mi darete dell'incoerente Perché sono più volte tornato su questo gioco E poi l'ho abbandonato perché non andava più di tanto Però io sono così, quando mi piace un gioco Cerco sempre di riportarlo e vedere se Con nuovi format può funzionare Spero che questa volta non metterebbe dislike a caso Chiunque non voglia vedere il video Non è obbligato a vederlo Dategli una possibilità a questo gioco Perché merita veramente Volevo far salutare i ragazzi che sono me Che sono Francesco, Filippo, Carmine e Giuseppe Salutate ragazzi Bella Ciao Eccoli qui C'è un po' Diego ragazzi Però è ovvio perché comunque loro stanno Spesso con le cuffiette, con l'auricolare Non stanno attrezzati tutti bene Quindi anzi che siamo riusciti tutti ad andare su TS Nello stesso serve, nella stessa stanza Tutti riescono a parlare Quindi è la terza volta che registriamo ragazzi Perché la prima era andata malissimo La seconda abbiamo stravinto Io addirittura ho chiesto 12-1 Ma a metà partita sono crashato La registrazione l'ho persa E quindi niente Ci ritroviamo qui per la terza partita di filo Speriamo che questa volta vadi bene Ricordo che ci sono un livello 19 Un livello 22 Quindi un paio di noi che non stanno al 30 Quindi non vi aspettate grandi cose Insomma il livello di gioco è quello che è Siamo molto diversificati Non so contro chi ci capiterà Speriamo insomma che non ci penalizzi troppo E cerchiamo di giocare Siamo in game e si parte Let's go Io sto quasi in mid ragazzi Sono andato mid e non jungle Perché a quanto pare i miei fan sono tutti jungler E praticamente giocavano quasi tutti jungler e top E quindi alla fine io ho deciso di andare mid Perché è l'unico ruolo in cui riesco a parte la jungle A cavarmelo abbastanza bene In botta abbiamo un first time Sivir Bella Bella eccolo Trash cercherà di aiutarlo Poi abbiamo un master in giungla che si scorda di cancare Quindi probabilmente starà essere camp a giungla E vediamo un po' che viene fuori Oh ecco qua Ecco occhio ecco eh Ecco Eh lo so ho visto Vabbè ma non fa niente Lascialo 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 per te Lascialo per te No mi pigia la voce Eeeh Attacca l'attacca 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 Porco cane ha fischiato pure lui Oh no 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 A te A te Mamma mia trash ce la fa Vagli schieno per te G mo c'è carriamastro lindo con niga dai col tresca tagavi mi stai male stilato pure il drago quello che era messo stil del drago sarà la cosa migliore fino a mo non ho mancato manco non laggassi chi lagga di 2 io le voci ancora ne riconosco lucian luci a lucian perfetto l'unico vendere lagga perchè deve farmare a posto vabbè 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 ma buono sto fatto che non c'ho mano e nel cannone via di via dell'agro via su no no chi ci hanno loro un giungla zack nello sta attento sta qui zack ma devo stare attento perchè fa la combo e sciottano se viene ma zack si è più visto aspetta che push si è questo porco 2 lasciamo lo sciano faccio finta l'ho l'ho liceo stupido coglione ucce mori pure te oh sii la passiva 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 sbagliato io cosa ci ho provato io l'ho la doppia lol è andato a blitz becca pure te a blitz becca pure te qualcuno è crashato eh eh ma struriamo eh ma struriamo top 29 finion fa quanto che io guarda sono ragazzi stanno bene eh il problema è che adesso Luca non l'ha crashato speriamo che torna non stai di top e portato sennò aspetto Mastroindo che culo che culo questo si si ma ero pure mosso del lì ma che bu raga comunque zack è di nuovo mid eh non avrebbe poilandà c'è Minuten vabbè mi piace it hop non ha ulti torre bozzano no l'ho lasciato che culo qua qua ammazzata fa qua ammazzare va bene vabbè ma mi spannò riesco a prendermi no 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 non ciä a noto basta 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 eh i voli vuok le manardale iska Lascialo, 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 non lo daivate, non lo daivate, va bene, occhio che sta arrivando, eh c'è Zark, anche Garen sta passando un brutto punto, eh, è Drago, regà, il Drago che ha la faccia, quello dei foco è buono, eh, occhio, 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 occhio al naso, sbaitalo, baitalo, fallo venire in mid, fallo venire in mid, facciamo il Drago, vai, 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 tutti al Drake, startatelo, startatelo, ma strivi al Drake, Stanno arrivando, stanno arrivando, c'è, 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 c Eh, sono stato costretto a flashare. Sette cazzo, doppia! Con l'arma dei quick! Ah, buono, buono! Ma la botta l'avete presa Tori, perfetto, te pusha Lucia, poi arrivi a mid. Aspetta, c'è il fire in qua. Sì, sì, Pia, Pia, va a fare tanto Jinx e non sta a farmare, sto a 84, sta a rimanere il sacco indietro. Tu gare ne arriva a top, che moda arriva una Maxi Waverly, valla a te pusha, mid difendo io. Ok. Eh mamma, ecco si torna. Siamo al break. Guarda Jinxianni che piga! Beh, sto portando uno, no. No, no, non te seguono, stanno tutti i mid. Mastery, vieni qui sotto Tori con me. Non passare da là, ma sei sch... No, sei pazzo, te. Non devi passare da là. Scusa, non li avevo visti. Ecco Zack, ma questo è matto. No, no, non la tenna, 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 tenna. Vai, vai, vai Lucia, non ti fermare, non ti fermare, vai sotto Tori, che tanto... Porco ciuta, che c***o. Eh, eh, sì, no, grazie, no. Tocchia un po' qua, vabbè. Eh, sono scostretto a qualcosa. Ah, ma io spesso io c'ho uno. Ah, beh, ah, beh, uno è morto. Aiuto a mid o continuo a top? Do sono nati? Guardate, erano tutti con uno spudo, pure Nasus, non si sa come si è salvato. Pusha, pusha... Pusha, Karen, pusha tutta la top, resta lì. Sì, sì. E moriano tutti per la metà. No, 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 erano tutti low life, devono tutti beccà. La può prendere, guarda, se la prendesse. Noi pushiamo mid, abbiamo la mid, abbiamo la mid. Un po' la nata difende tutto. Quanto c'è Jinx? Che cazzo fa Jinx? Una deficiente nel minion. Ok, gli ho bloccato te. Continua a pusha, Karen. L'altro motivo, vieni lì da te. Anzi, no, no, mettete a beccata. Scusa, scusa, vengono a uccidere. Tanto qui, apriamo la sua gara. No, 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 ma se lì non c'è una sottotura. Sotto, vengono usciate noi, perfetto. Loro ci hanno dato pusha un po' delle cose. Loro ci hanno dato pusha un po' delle cose. Famo solo rapido. Io che mi faccio? E' zappa qua. Vai, tanca te Blitz. Vai, Mastery, veloci, eh. Veloci che stanno arrivando. Stavamo. Tanto qua lo scioltamo, vai. Passamo per da qui, per da qui, per da qui. Chi c'ha da beccà, beccassi. Io becco, è tanto inutile rimanere qua. E poi subito mid a difendere. Tanto muovono a veder drago questi stupidi. Vedono che hanno fatto. Occhio on do passi, Mastery. Occhio on do passi, passa da qui. No, ha pulito. Tornata indietro, ma è morta. No, ha flashato, ha flashato. Che culo con sta bull. No, 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 no. Arrivo, 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 là, arrivo, là. Occhio. Cosa è morto Nasus, eh? Eh, c'è Jinx che non ha led. Ok, Zack se ne è costretta. Pusha, c'è bisogno di... Va, va a push a top, Garen. Pusha top fino alla base. Guarda. Vai, Nasus è top. C'è un vantaggio. Pushiamo, vai. C'è qualcuno qua. Eh, quella è Nasus. Eh, quella è Zack. Eh, quella è morta, eh. Eh, quella è morta, eh. Vai. Ma me la vado a difendere a Torre top. Vai, vai a Torre, a Torre, tutti a Torre. Lucian, stai a tankar, Lucian, Lucian. Occhio che stanno arrivando. Occhio che stanno arrivando. Merda. Maffanculo. Ah, Lucian, hai tankato quattro hit, non te ne ti accorto. Bot, pusha. Oh. Bot, pusha. Venite mid, regà. E mi raccomando, Lucian, sta dietro, mo'. Mi faccio il drago. Che fai te? Che fa? Ah, flash sulla mia cu, eh. No, che vieni a fare la spavalla. Un pesce di merda. Occhio a Zack, regà. Tocca a guarda i lati. Se no Zack ci rifotte. A parte là ci ha fottuto perché... Ecco, là c'è una pink. Vabbè, che c'è sana cover a bot, eh. Pushiamo sta mid, abbiamo sta Torre, sto giro. La gara sta a fare già quella solo? Sì, sì. Allora, vai, sono morti li cura ulti, eh. Eccolo lì. Eccolo lì. Vai, vai, ho fatto doppia lì, eh. Vai, ho fatto doppia lì, eh. Vai, ho fatto doppia lì. Vai che questo è morto pure, vaffanculo, tutti i morti. Vai, vai regà, vai regà. Vai regà, vai regà. Vai regà, vai regà. Trick, se hai fatto Karen. Vai, la famosa è tutto, fine ai nib, fine ai nib. GG, GG. GG. C'è solo Natus, eh, che mi fa anche. Se provo a fa qualcosa lo massiamo. Eh, dopo la... Via, andamosene, dai, andamosene adesso. Non strafamo, su. Ma che fa quella? Oh, cerco di pushare. Oh, no, è morto, è morto. Sono morti tutti, eh. Ma di danni che faccio, tripla. GG, GG. Rolla, rolla. GG. Sono esplosi tutti. Eh, ma... WTF. No, andammo a finire la partita. Andammo a finire la partita. Andammo a finire la partita. Vai in base, Mastery. Voi pushate me. Ti va da una mano a Mastery che c'ha Yasuo. Eh, appunto. C'erano dei minion, là. Perché non hanno... Non... Gli affrasi, eh. Cacchio. Va bene. Uh. Vai, vai, vai Karen, vai Karen, vai Karen. No, Zack. Non Zack. LOL. Mori, coglione di merda. Non mi avrai mai. Va dai, abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto. Ti ulti. Ma magari si avvicina la mia ha sciolto. Oh, andammo, se ne andammo, se ne andammo, se ne andammo. Non esagerare. Ma se no ci facciamo il Baron. Garen, va a push a top, va a push a top, Garen. No. Io venti dei voli. No. Mettetemi qua, aspettatemi qua. Sto arrivando, gli fanno un bait al Baron. Dai. Immazziamo tutti o non mi ha chiudato la partita. Bella, bella, bella. C'è qualcuno c'è il trinket rosso? Qualcuno c'è il trinket rosso? No. Eh, l'ho appena usato. Eh, ok. Vabbè, da allora andammo, dai, che questi stanno a dormire. Se potremmo faremo il Baron, noi ora stanno a regolare, gli stanno a top, dai. Ah, ma tanto c'è questo. Vai, vai, vai. Luciano, ma servi te che fai danno. Mastery, Mastery, faccia dentro. Tu devi smita, eh. Beffa. Beffa, ecco. Che ho fatto? Andiamo mid, ammazzamoli tutti. Occhio. Ciao. Dovai. Mando flash, che mu esplode e mori. No. Flash su flash. Flash su flash. F***g lo bello. Guarda, Nami, guarda Nami. Mamma mia pantone. Ok, qua. Vai, vai. Che fai su. No, pucia, mandiamo avanti. Lascio lo perdere, lascio lo perdere, regà. Stavore Zack. Ehi, i danni. Non vado. Eh, fanno la combo. Ciao Zack. Massa che combo, cioè vinto la partita costa combo. Eh, vabbè. Dovai. No, vai. non puoi morire no quello deve morire, prima finisce la partita di morire andiamo tutti su Yasuo, regà, dai la partita è vinta, tutti su Yasuo, regà qualcuno che dai, qualcuno che dai, vai 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 dai io non posso, dai mori coglione dai, prima la partita dai grabala, grabala ma che può fare questo? che può fare? non c'ho un mana, non c'ho un mana, regà ammazzate sto coglione, sto solo ad attaccare che? no, hai risparato il nip hai risparato il nip non ce voglio crede, ce voglio crede ancora, ancora Nami ancora Nami, basta Nami dai 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 a posto, regà bella la partita, su GG, ma 30 è grave GG, nessuno sotto diello 30, ma comunque vinto è un bel la partita mi è piaciuto buono